Eccomi qui, di nuovo ho provato a riconnettermi perché la linea si era... Come vi dicevo, il Cardinal Mezzofanti stava vivendo degli anni molto tristi, molto faticosi da un punto di vista remunerativo della propria vita e lontano dall'insegnamento nel frattempo c'era una guerra in atto, i Scesi e Austriaci. Se adesso mi sentite date un altro cenno, scusate ancora ma non dipende da me. E l'Austria sicuramente per il nostro Mezzofanti rappresentava una vera e propria scuola d'apprendimento, perché? Perché l'Austria era un vero e proprio quadriquo teotonico, boemo, rumeno e Mezzofanti proprio in quel periodo apprese tantissime nuove lingue. Perché? Perché frequentava i militari, i soldati, gli ufficiali. Ma dato anche il suo ruolo, si dirigeva presso gli ospedali militari per le confessioni, per le preghiere, per le estreme unzioni ai militari stranieri che erano nei territori italiani in quel periodo. E proprio questa fu la spinta a nuove lingue, delle nuove lingue. Proprio il dispiacere nel non poter confessare il... scusate, controllo un attimo... La regia stasera va un po' male. Purtroppo ho provato anche con i miei dati, ho tolto il wifi, ma si vede che la linea va... E come vi dicevo, proprio per questo motivo, per voler confessare tutti i soldati d'Italia, si dedicò al nuovo studio di nuovissime lingue. Di nuovo polacco e molto probabilmente anche da solo il russo. E quindi in quegli anni, anche se non poteva insegnare, si impegna in quello che era un suo nuovo ruolo, quello di essere un curatore dello straniere. E infatti in quegli anni venne soprannominato confessore dei forestieri. confessore dei forestieri e in particolare confessore dei soldati polacchi. Perché? Perché primi soldati forestieri che arrivarono a Bologna, nei territori dell'Emilia Romagna, che si ferirono in battaglia e furono ricoverati negli ospedali bolognesi, furono proprio i legionari polacchi del generale Enrico Dabromski durante la campagna 1796-1797. Mezzofanti rimase molto colpito dal fervore cattolico dei polacchi e tanto era il suo contristamento nel non poter confessare loro prima della dipartita che cominciò a studiare l'idioma. Il Mezzofanti è, come apprendiamo dagli scritti di Riccardo Casimiro Levanski, il primo polonista bolognese. E quando durante quegli anni al nostro Mezzofanti gli si chiedeva come mai questa capacità, quali erano i suoi studi particolari, lui rispondeva così, data la sua grande umiltà e il suo fervore religioso, io sono d'avviso che Dio si sia compiaciuto di concedermi sì grandono, perché io ne richiesi non per la vana e meschina gloria mondana, ma per la salute delle anime. Essendo sacerdote in Bologna, mia patria in tempo di guerra, io visitava gli ospedali militari e trovandovi infermi ungheresi e slavoni e tedeschi e bohemi e non potendoli confessare, e quel che è più non potendo ragionare e condurre i protestanti al seno della Chiesa Cattolica, mi sentiva straziare il cuore. Ad ogni forestiere che per caso capitasse a Bologna, gli albergatori davanti premura di rendermi avvisato ed io a Correve ragionava con essi interrogando, notando e esercitandomi nelle loro lingue. E nonostante lui non uscì mai dall'Italia, infatti questo è il suo grandissimo dono, quello di aver imparato tutte queste lingue non uscendo mai dai territori italiani, in realtà la sua nomea, il suo successo, valicarono i confini nazionali. Infatti dai carteggi che noi abbiamo presso la biblioteca dell'archiginnasio apprendiamo che ebbe delle corrispondenze con lo zar Nikolai Ramanov che rimase colpito dalla padronanza del russo, tant'è che non scorgeva nemmeno un accento straniero e abbiamo anche delle epistole scambiate con il sommovate del romanticismo polacqua da Mitzkiewicz il quale non notava nessuna imperfezione nemmeno nello scritto. arriviamo agli anni felici finalmente del nostro sacerdote, infatti oltre ad essere docente presso l'università fu anche bibliotecario e archivista e finalmente questo duplice stipendio gli permetteva di poter vivere una vita felice e tranquilla da un punto di vista di realizzazione personale ma anche finalmente di tranquillità economica. Continua a godere delle entrate bolognesi anche una volta che si trasferirà a Roma a metà degli anni 10. Nel 1819 venne chiamato addirittura a far parte della società scientifica di Varsavia ma è negli anni 30 del 1800 che raggiunge l'apice della sua carriera. Infatti Papa Gregorio XVI suo amico e protettore lo nominò primo custode della biblioteca apostolica vaticana nel 1833 e lo elevò a rango di cardinale nel 1838. È a Roma che il nostro cardinale finisce i suoi giorni nel 1849 all'età di 74 anni ma non verrà dimenticato né nella città di Adone e né nella città natale perché a Roma presso la biblioteca universitaria è collocato un suo busto in suo onore da parte del bibliotecario e presidente del collegio dei filologi Liborio Vegetti e anche nella città natale gli è stato dedicato un busto commissionato a Cesare Gibelli nel 1851 fu posto nel pantheon dei bolognesi illustri di Bologna. Questa è una foto che troviamo del cardinale all'interno della sua biografia curata da Riccardo Casimiro Levanski. Io spero siate riusciti a sentire qualcosa ma oggi la tecnologia non è stata dalla nostra parte forse anche i nostri dispositivi sono stanchi di tutto questo virtuale. Al di là di questo io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che l'appuntamento di domani sera con la cultura a porte chiuse ci ci terrà compagnie Mirti De Cavelli che non ha bisogno di presentazioni e ci parlerà di alcuni tratti dell'enogastronomia durante la grande guerra. Grazie e una buona serata.